e la messina di Giacomo Modica due vittorie contro due colossi del girone C come Casertana e Taranto due vittorie che hanno ridato morale e convinzioni due successi che hanno permesso al Messina di uscire momentaneamente dalla zona play out match che si sblocca all'ottavo minuto con questo colpo di testa una parte di Luca Nocerino che sposta gli equilibri e porta avanti la Turris nel miglior momento del Messina insegna il quinto gol stagionale classe 2004 e la tocca quanto basta Fumagalli non ci arriva 1-0 Turris una squadra di Menichini continua a insistere minuto 20 torna a riaffacciarsi dalle parti di Fumagalli questa volta con il Mancino tentato da fuori aria tentato da Giannone risponde così Messina minuto 27 azione che si sviluppa sulla corsia di sinistra Zunno la mette dentro alla fine a concludere con il destro Emma Uso corpo all'indietro e destro che si spegne sul fondo Turris che torna a riaffacciarsi al minuto 40 occasione sul calcio di punizione sempre sui piedi di Luca Giannone conclusione che si spegne sul fondo a fine primo tempo occasione per il Messina colpo di testa tentato da Giuseppe Salvo ha contribuito molto all'azione offensive del Messina ma l'occasione più grossa ce l'ha da Turris a fine primo tempo 48 sul cronometro il Mancino di Giannone si stampa sulla traversa Messina che evita il 2-0 primo tempo che si chiude con il risultato di 1-0 al 74esimo la pareggia il Messina e lo fa con il Mancino vincente da fuori area di Marco Rosafio che è la quarta da titolare con la maglia dei siciliani trova il primo gol al suo ritorno battendo così Marcone il Messina è in fiducia minuto 87 pallone invitante di Ortisi sul secondo pallo per Luciani non ci arriva per un niente il numero 9 continua a insistere la squadra di Modica ma passare avanti è la Turris con questo clamoroso gol sulla conclusione di Iallo pallone che si stampa sulla tempia di Giulio Frisena e spera che si insacca sotto l'incrocio dei pali Turris avanti non stadio Liguori si scalda il gol veramente clamoroso in quel lì Torre del Greco ma il vantaggio dura pochi minuti perché il Messina ritrova il gol del pareggio con questa girata di Emma Uso e questa volta il gol fa impazzire il settore occupato dai tifosi del Messina gran girata gran gol il settimo stagionale per il classe 97 finale condito da nervosismo e cala il sipario allo stadio Liguori finisce 2-2 un pareggio che non sposta le cose in classifica terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Modica